Ciao a tutti ragazzi, bentrovati qui su Battlespeed Central, sono Luca, oggi video di news, sono uscite le prime news che riguardano il quinto set, manco in tempo ad avere tra le mani il quarto set che già dobbiamo preoccuparci del quinto, e sono news piuttosto scottanti, se siete nella community le avete forse già lette, però io ci tengo a portare un po' di contenuto riguardo a queste notizie. Allora, intanto per cominciare si chiamerà Inverted World Chronicle, The Start of New Chapter, noi sappiamo che Bandai ha l'abitudine nei suoi giochi di carte in generale, quantomeno in Battlespeed, ogni 4 set, all'incirca 4, 5, 7, il gioco fa un salto sostanzialmente. Questo sia per ragioni ovviamente dovute all'economia dell'azienda, sia immagino anche per mantenere vivo l'interesse nel gioco, e anche dare la possibilità a chi inizia a giocare, a non dover recuperare proprio tutti i set precedenti, ma poter iniziare già anche con le carte nuove. Questo ovviamente è il modo di fare di Bandai, può andar bene, può non andar bene, non è nemmeno detto che sia questo che vedremo nel set 5, però Start of New Chapter, Inverted World Chronicle, diciamo che lo lascia un po' presagire. Allora, vabbè, qui abbiamo la lore, sostanzialmente sono passati 300 anni dalle vicende dei nostri primi 4 set, in pratica, la pace viene mantenuta, e qui c'è il nostro primo, e qui c'è la prima grande notizia, dagli Zodiac Spirit, già, e proprio loro. Zodiac Spirit, quindi le nostre mitiche X rare dello Zodiaco, come le chiamavano un tempo nell'anime, doppiandolo bellissimo, vabbè, questo è un altro discorso, e che fanno riferimento alle costellazioni, ora non abbiamo la certezza assoluta che siano proprio proprio le stesse carte, però sembra strano che non utilizzino un contenuto di così grande appeal, secondo me. Quindi è probabile che rivedremo le nostre amate carte dello Zodiac. Dalla costellazione del Sagittario, mostrati in tutta la tua luce, evoco saggitto Apollo Drago, supremo centauro lucente a livello 2! Per chi non avesse mai visto l'anime, sono carte iconiche dell'anime, diciamo, e anche in generale che hanno fatto abbastanza la storia di Battle Spirit, anche nel Battle Spirit giapponese, le abbiamo viste e riviste in molteplici modi, in diversi meta li abbiamo avuti, le carte galattico, sostanzialmente, Galaxian, e carte di tutti i colori che si aiutano a vicenda, insomma, vedremo poi come hanno intenzione di trattarlo, però, 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 abbiamo la notizia che sono loro, penso, sono decisamente loro. Ma, andiamo avanti. Vabbè, comunque, questi mantengono la pace, però la tranquillità, insomma, è un gran casino quando qualcosa appare. Sostanzialmente c'è un'invasione da un'altra dimensione, non è meglio specificato, tutto connesso alla Terra attraverso un serpente gigante chiamato Skybinder. Ok? Quindi serpente gigante, dai, bellissimo serpente gigante. E poi qua si dice che gli invasori posseggono una misteriosa energia che è chiamata Astral, sostanzialmente, e dopo andiamo a vedere. L'altra notizia molto interessante, Double Color Cards Make First Appearance, quindi prime carte doppie colore, che, a quanto pare, non saranno solo Spirit, ma anche Nexus e Magie. E carte doppie colore, quindi, che hanno doppie colore, vuol dire che, o hanno due simboli, e quindi hanno doppie colore, chiaramente simbolo e colore non sono due cose collegate, quindi una carta può avere il simbolo rosso e essere gialla, di colore giallo. Non succede di rado, ma, tecnicamente, può succedere. Doppio colore, ovviamente, noi ci aspettiamo carte doppio simbolo, con due simboli diversi, quantomeno per i Spirit e i Nexus. E poi, nuova keyword, effetto Chain, che, per chi ce lo ricordasse, nel vecchio Leto Spirit si chiamava Rush, ne abbiamo già parlato in un video, sulle nuove meccaniche che potrebbero essere aggiunte, e, l'avevamo citato proprio Rush, se riusciamo ve lo facciamo passare qua sopra. È una keyword che permette di attivare effetti aggiuntivi in base a colori diversi che hai in campo, quindi promuove, come dice proprio qua, rende più facile costruire colori, cioè, the deck con colori multipli, oppure potrebbe essere anche semplicemente effetti che riguardano il colore della carta, quindi c'erano carte, come il G-Battle Spirit, che diceva questa carta è sia bianca che rossa, per dire, per facilitare, appunto, le riduzioni multiple. Poi, passiamo alla nuova, un altro keyword, Astral, quello di cui abbiamo parlato sopra, che è tipica, a quanto pare, dei cattivi di questa lore, in poche parole, ed è una keyword estremamente forte, perché fa mantenere questi spirit bloccabili solo dagli altri spirit che hanno Astral. Ora, questa cosa, in Magic, si chiama Volare, molti giochi di carte ce li hanno, questa cosa qui, questa meccanica, non è considerata, secondo me, particolarmente simpatica dai giocatori, e magari, cioè, ovviamente non ne sappiamo assolutamente niente, quindi, insomma, prima di dare giudizi aspettiamo, però, l'imbloccabilità abbiamo già visto che è un effetto molto forte in Battle Spirit, e darla, in generale, rendendo bloccabile soltanto attraverso altri Astral, boh, non so, potrebbe essere un po' una mazza sui piedi per il deck building, ma magari anche no, speriamo di no, spero di sbagliarmi, insomma. Poi, andando avanti, notizie già un po' meno interessanti, in mio parere, diciamo, riguarda i pacchetti, quindi ci sarà sempre una carta olografica in ogni pacchetto, che sia comune, non comune e rara, però saranno cambiate con nuove rarità speciali, e non sappiamo bene in che senso, diciamo che vogliono rendere più interessante la holo, vedremo come la potranno avanti. Qua si celebra un anno di anniversario di Battle Spirit Saga, perché probabilmente uscirà ad agosto, ed è stato ad agosto che è stato annunciato poi il gioco, ormai nell'anno fa. Ecco, qui abbiamo appunto anche le accoppiate di colori che ci saranno, e dunque abbiamo... e a questo proposito sono andato a vedere alcune carte del vecchio Battle Spirit, che avevano questa accoppiata di colori, perché comunque le carte doppio colore non è che ce ne fossero tante, anche nel vecchio Battle Spirit. Comunque abbiamo rosso-viola e rosso-blu, per quanto riguarda il rosso, quindi ho trovato queste due, che, diciamo, sono Spirit, che hanno tutti Ascend sostanzialmente, quindi in realtà potremmo effettivamente vederli, eh, carte del genere. Magari non fortissime, gli effetti sono un po' così, non so, soffermarmene. Poi abbiamo... queste carte sono semplicemente per vedere come stanno bene le accoppiate di colori. Poi abbiamo giallo-viola e giallo-bianco, e queste due erano parecchio sbroccate nel Voto Spirit, tanto per dirlo. Qui vedete Ryut, tra l'altro. Poi abbiamo bianco-verde e verde-blu. Sì, lo so a cosa state pensando, tutti per bianco-verde volete Ragnarok, può darsi anche, effettivamente può darsi. Abbiamo già Nova, potrebbero anche mettere Ragnarok, però forse io lo vedo un po' poco probabile. Per chi non lo conoscesse, Ragnarok è un'altra carta iconica, che ha fatto la storia anche del battle spirit competitivo. È una carta veramente forte. Andando avanti, abbiamo un'altra notizia piuttosto interessante, che è, forse l'ultima, quella più interessante, un nuovo tipo di rarità, un nuovo anniversario, cioè la rarità del nuovo anniversario, ovviamente qua non ne sappiamo niente, sono carte magie e nexus di questo set, featuring con arti speciali di carte che i fan hanno preferito dal BS01 al BSS04. quindi saranno un po' un misto di magie, cioè di art, di magie e nexus, dei set precedenti, con carte magie e nexus dei set 5. Mi parte da aver capito. Poi vabbè, un'altra collaborazione, cioè altre carte collab con Evangelion, e alcune collab, cioè alcune carte saranno disegnate dal disegnatore di Digimon, sostanzialmente. Poi vabbè, qua il contenuto, vediamo 68 comuni, 32 comuni, 15 rare X, come nel set 4, 18 collaboration, 18 speciali rare, e 3 saghe, quindi aumentiamo a 3, adesso siamo a 2, a 3, poi diventeranno, non so, 25 saghe rare, e vabbè, e poi il solito 12 carte per pacchetto. Bene, direi che per questo video di informazioni è tutto, ditemi cosa ne pensate, ditemi quale accoppiata di colore siete più eccitati di vedere, e diteci qual è anche la vostra costellazione preferita, se ne avete una. Ma suppongo che ne riparleremo di questo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!